Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Pano TV. Oggi è venerdì 12 febbraio 2024, iniziamo insieme una nuova settimana, abbiamo tutti i giornali pronti questa mattina con tante notizie, ieri un weekend molto dedicato al carnevale in tutta la regione, ma io oserei dire in tutta Italia, tantissime le località che hanno festeggiato il carnevale con mascherate e corsi con carri allegorici. E quindi molti sono stati trattenuti nelle loro località, ma il carnevale di Fano ha veramente sempre attirato tantissime persone. Vedremo poi quello che è accaduto sia a Fano che a Pesaro e poi anche in altre località. Intanto passiamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno. Ecco qua il santo che si festeggia oggi e sono diversi, sono i santi martiri di Abitina. Abitina è una località dell'Africa settentrionale. Siamo durante l'impero romano, regnava l'imperatore Diocleziano che avviò una persecuzione molto crudele, molto vasta nei confronti dei cristiani. E anche i cristiani di Abitina furono arrestati, furono mandati in prigione e qui morirono purtroppo distenti anche per le torture che avevano subito. E oggi appunto si festeggia il loro sacrificio, si festeggia, si celebra il loro sacrificio, si ricorda il loro sacrificio. Dunque i santi martiri di Abitina. Vediamo anche le previsioni del tempo. Per quanto riguarda la nostra regione vediamo un tempo variabile e a tratti stabile con fenomeni sparsi, più probabili nella seconda parte del giorno. Insomma si ripete un po' quello che è accaduto ieri quando molte manifestazioni di carnevale erano incerte per un tempo variabile. Comunque il tempo ha tenuto ieri e quindi tutte le manifestazioni si sono fatte, sono realizzate regolarmente. Le temperature sono stazionarie, 7 la minima, 12 la massima. I tempi sulle coste da ovest, nord ovest, dall'introterra da ovest e sud ovest. Il mare è leggermente mosso, il sole sorge alle 7.22 e tramonta alle 17.29. E ciò detto, vediamo subito le prime pagine dei giornali. Oggi iniziamo dal resto del Carlino, la pagina regionale che ha un sunto di tutte le notizie della regione. E vediamo subito quello che è accaduto a Pesaro. A Pesaro vediamo la notizia di cronaca, in questo punto assalto notturno al campo di Calcinelli, spogliatoio razziato. Veramente è successo, hanno portato via tutto nel campo sportivo di Calcinelli, di Colli al Metauro. A Pian di Meleto un petardo viene lanciato dagli spalti, un guardaline sviene, la partita è stata sospesa e siamo sempre nel quadro dello sport. E poi abbiamo invece un articolo che riguarda l'impatto ambientale. I vigilantes della discarica di riceci sorvegliamo il cantiere sopra luogo dell'arma, il progetto della discodia. E poi il carnevale, il carnevale che non può mancare, come abbiamo detto, da Fano ad Ascoli. Il carnevale è super e spunta anche Russell Crowe. Venezzi, per quanto riguarda Fano, Russell Crowe, Ascoli Piceno, anche se sono state smentite le origini ascolane del noto attore australiano. A Macerata, a Macerata uno schianto in muoto, muore una farmacista. Si tratta di Roberta Filippetti, 44 anni, lavorava nella farmacia comunale. Ad Ancona, ad Ancona un ubriaco semina il caos, in stazione insulti e minacce verso gli agenti. Mentre a Senigallia un imprenditore viene trovato in fin di vita nella sua abitazione. E poi a Fermo, a Fermo c'è quel imprenditore che è stato pestato, pestato quattro anni fa da un suo amico, una lite tremenda. Aveva ricevuto dei pugni in faccia, era caduto in coma e dopo quattro anni appunto di incoscienza è morto. E poi ancora della valle punta al de-listing di Toads, opamichevole del fondo Catterton. Voglio dire, ci sono delle contrattazioni tra le ditte per implementare appunto la produzione e soprattutto l'estensione dei mercati. Questo per quanto riguarda il sunto delle notizie. Ora apriamo il giornale e diamo un'occhiata subito ai tanti carnevali che si sono svolti nella regione Marche. Vediamo subito quello di Pesaro, Rabachen in piazza, tantissime le persone in piazza del popolo. Guardate qui la fotografia del sindaco Matteo Ricci con il Rabachen e tutta la gente che ha affollato piazza del popolo. Quintali di cioccolatini anche qui lanciati da Alex e Leonardo Bernacchia. Poi la signora Cagnera che è la moglie del Rabachen. In prima fila tutte le parrocchie con i loro colori, il plauso del sindaco Ricci agli organizzatori per quanto hanno realizzato. Il carnevale di Pesaro è un carnevale realizzato dalle parrocchie. La vittoria è stata attribuita alla parrocchia di San Carlo con Pinocchio che aveva ben 130 figuranti. E poi hanno completato la rassegna le parrocchie Capuccini, viaggio nella musica dagli anni sottanta ad oggi con 210 figuranti, Cristo Re, i giocattoli della soffitta, unità pastorale centro storico, varache elementari, questo è un po' il titolo della mascherata, e poi Santa Maria di Loreto, Babbo Natale scopre il carnevale, gruppo della torraccia Marilyn Monroe al carnevale de Pesre, e poi con Leonardo ed Alex Bernacchia che hanno distribuito sette quintali tra merendine, cioccolatini e caramelle. Insomma è stato anche qui un carnevale molto molto vivace. Al carro della comunità pastorale di San Martino, San Paolo e Torraccia, con 180 figuranti, è stato consegnato un riconoscimento speciale. I super fratelli Martin e Paul per quanto hanno realizzato. Quindi vedete come le parrocchie che accumulano, aggregano tante tante persone, poi riescono a realizzare veramente delle opere molto molto belle, e sono state molto apprezzate quelle realizzate a Pesra. C'è anche un articolo ovviamente che riguarda il carnevale di Fano. Vediamo qui tre immagini. Il carro dedicato a Beatrice Venezzi, che era presente in persona proprio al corso mascherato, ed è rimasta entusiasta per lo spettacolo che il carnevale di Fano ha dato, tanta la folla. Anche se proprio proprio non si è raggiunto il numero delle presenze della seconda sfilata, della sfilata precedente. Comunque possiamo veramente considerare un tutto esaurito, come annuncia il resto del Carlino. A Fano trionfa la madrina d'eccezione, Beatrice Venezzi. Oltre 14.000 persone e il sindaco anche diventa il volo. Pensate, riconoscere Massimo Seri in questa immagine è un po' difficile, ma ovviamente anche il sindaco, anche un sindaco può considerarsi un volo, perché poi insomma anche lui ha fatto delle cose e quindi le magnifica, le declama e le valorizza come è giusto che sia. Maschere è uno show, i supereroi e le fatine sfilano tra la gente, pioggia di caramelle in Ancona, anche qui una bella parata di immagini, invasioni di carro, maschere, Manila Nazaro che meraviglia a Macerata e a Civitanova Marche, e poi vediamo anche Ascoli, Domenica di Risate, da Russell Crowe a Janik Sinner. L'ironia scende in piazza, c'è chi ha impersonato anche il caso della Pandoro, della Ferragni, insomma il Carnevale ha dato il destro con la sua ironia, con la sua satira, di impersonare tanti eventi, tanti personaggi, tanti fatti che sono accaduti durante l'anno. Questo per quanto riguarda la cronaca un po' del weekend, però continuiamo con Pesaro e vediamo come i vigilantes riceci pagati da Aurora, siamo qui a sorvegliare il cantiere, ma non ci sono autorizzazioni per la delimitazione dell'area dove vorrebbero farci la maxidiscarica, insomma un provvedimento discutibile assunto dalla società, che probabilmente insomma viene un po' contestato. E poi vediamo ancora questo che è accaduto a Calcinelli. Spogliatoio, saccheggiato, rubati palloni e magliette. Ebbene hanno rubato veramente di tutto per un bottino di circa 8 mila euro. Hanno rubato, vediamo un attimo, hanno rubato nove mute complete, complete con i borsoni, con all'interno il vestiario dei giocatori per le partite, ma anche importanti documenti, tra i quali i tesserini e le schede dei tesserati. Poi hanno rubato anche un defibrillatore, otto palloni da gara, alcune reti da porta, ancora imballate, non si sa che cosa se ne faranno, e poi 15 chili addirittura di detersivo per lavare le divise dei calciatori dopo le partite. Insomma hanno spogliato tutto lo spogliatoio, così dobbiamo dire. Sono penetrati rompendo una finestra, probabilmente avevano un furgoncino parcheggiato nei pressi, e quindi hanno caricato tutto e se ne sono andati. Ovviamente qui indagano poi gli inquirenti per cercare di risalire agli autori di questo furto. Volevo farvi vedere anche la notizia dell'imprenditore, che è morto dopo quattro anni, rissa al bar, poi l'ospedale, muore dopo quattro anni di coma, addio a Michele Paradiso. Era un imprenditore di fermo, aveva 58 anni, poi la violenza imputato un suo amico abruzzese. Ebbene una lite, una lite a causa di una slot machine, che è trascesa in un caso molto molto violento, quindi pugni, i cazzotti in faccia, lo svenimento, e poi il coma, che è durato una lunga, lunga, lunga agonia per questa persona che poi è deceduta. Vediamo anche lo sport, vediamo anche lo sport, che cosa ha fatto la Vis Pesaro, finalmente ha ottenuto un risultato utile. Vis vittoria che esalta in vista del derby. Fermana, il mister, non piangersi addosso. I biancorossi hanno fatto una prestazione molto molto solida, dopo un centro che vale doppio. Giallo-blu in crisi, e beh, insomma, se non tocca a uno, tocca all'altro. Protti deve fronteggiare con molta assenza la trasferta di Perugia. A Fossombroni, invece, il risultato non va al di là di un pareggio. Vasto Girardi vince la voglia di non perdere. Poi il Fosso svanisce, per il Fosso svanisce un'occasione ghiotta. La gara è con pochi sussulti, la squadra di Fucili è a 30 punti. Nella terra di mezzo, primo tempo, nella terra di mezzo per quanto riguarda la classifica, primo tempo a Folate, ripresa più calma, due pali dei locali. Insomma, il risultato. Vasto Girardi zero, Fossombrone zero. Vediamo anche il campionato di eccellenza, dove vediamo che l'Urbania è ribaltata, la Civitanese non si ferma. Ebbene, pensate, Urbania uno, ma l'avversario, la Civitanese, 4-4 gol. Ebbene, una sconfitta non certo leggera. Per il Fano Calcio, invece, si spera nel futuro con la nuova Presidenta Alma, la testa per il Noresco sarà assente il baby Mancini. Comunque, l'Alma è in questi giorni, il Fano Calcio in questi giorni è pervaso da un forte entusiasmo, si gira pagina rispetto a quello che è accaduto negli ultimi giorni. Entusiasmo per il neopresidente Salvatore Guida, il quale ha fatto visita qui, a Fano, ai giocatori. Il nuovo patron Granata ha infatti incontrato la dirigenza, confermando Franco Pantaleoni, vicepresidente, e Di Quonzo come responsabile dell'area tecnica. Mentre in settimana verrà ufficializzato il nuovo direttore generale, ovvero l'ascolano Pierluigi Petritola. Quindi una nuova pagina, un nuovo entusiasmo. Speriamo che vengano anche i risultati alla squadra Granata. Giriamo ancora la pagina, vediamo altre notizie di sport. In questo caso posso segnalarvi per il basket, quello che è accaduto alla VL. non è una cosa molto bella, comunque Open, Job Metis, scusate, 91 canestri, Carpegna Prosciutto, 80, Pesaro KO a Varese alla sosta da penultima. Ormai per la VL insomma un campionato che non va assolutamente molto molto bene. Come qualche difficoltà sta dimostrando proprio in questi ultimi tempi, dove è l'articolo che sto cercando, vediamo un attimo, vediamo un attimo, cercavo la Smart System, eccola qua. La Smart System che perde ancora con il Lago Negro una partita in trasferta. sconfitta esterna anche per la Smart System, il titolo si basa anche sul Banca Macerata, che crolla in trasferta a Lecce, quindi non va bene per le squadre marchigiane, doppio KO per le due marchigiane, chiamate giocare fuori delle mura amiche, Lago Negro domina grazie a un monumentale Vaskelis. E a pensare che la Smart System aveva cominciato bene, dando un buon distacco ai padroni di casa. Poi invece tutto è cambiato, tutto si è sovvertito e la Smart System ha accusato la superiorità avversaria. Bene, questo è per quanto riguarda lo sport. Ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico. Vediamo l'apertura che si fa sulla pagina di Pesaro, di Fano. Eccolo qua. Si parla molto molto del Carnevale oggi sul Corriere Adriatico. Insomma, il Carnevale è stato l'evento principe della giornata di ieri per quanto riguarda Fano. Sul carro l'ovazione per Venezia. Ma non c'è il record delle presenze. Comunque il record si è avvicinato moltissimo. Infatti l'articolo comincia con un numero leggermente inferiore alle presenze della sfilata precedente. Ieri il Carnevale di Fano ha sfidato il maltempo e ha ottenuto un nuovo successo. Era stato previsto che il tempo sarebbe migliorato dopo la pioggia di sabato. Così è stato. In breve il percorso di Viale Gramsci si è riunito di pubblico. C'erano persone di tutte le età, dai bambini piccoli e addirittura in carrozzella ragazzi, adulti, anziani. Insomma, veramente uno spettacolo per le famiglie. E poi anche al mattino. Al mattino il Carnevale dei bambini. A scuola di Carnevale i bambini protagonisti. Sono stati veramente protagonisti le scuole per l'edizione mattutina del Carnevale di Fano. Tante hanno realizzato. A livello didattico proprio. Molti laboratori per realizzare maschere, interpretare dei temi. Molto importanti, attuali. La musica, la pace, la gioia. Insomma, temi di particolare rilevanza. Che poi sono stati manualmente interpretati. Hanno fatto con le loro mani queste mascherate. Che dimostrano come il Carnevale non solo il divertimento, ma anche qualcosa di più. Giriamo ancora la pagina e parliamo ancora di Carnevale, perché poi il Carnevale non è solo un corso mascherato, ma è anche Veglioni. Due sono stati i Veglioni più importanti di sabato. Quello organizzato dall'ente carnevalesca Villa Piccinetti e quello organizzato invece dalla Proloco nella sede della bocciofila, la combattente. E qui tanti, tanti gruppi mascherati. I fanesi hanno ritrovato il piacere di mascherarsi. Hanno così concorso per vedere qual era la mascherata più bella. Ebbene, a vincere è stato il gruppo di Viviamo Centinarola, che ha organizzato una rappresentazione del fondo marino piena di meduse. E li vediamo qui con una macchia di colori veramente molto molto bella. Mentre a Villa Piccinetti il gruppo che ha vinto le mascherate sono stati i Minions, qui premiati dalla Presidente Maria Flora Gian Marioli. E poi parliamo di un'associazione che si distingue a livello gastronomico ed è la Confraternità del Brodetto. Nata vent'anni fa, festeggia appunto il ventennale con il suo nuovo presidente e ha assunto la testimone, testimone da Valentino Valentini. Si tratta di Alfredo Antonaros, che ora rivitalizza l'associazione con un impegno annuale importante. Verranno organizzate tante iniziative di promozione del Brodetto, quale portabandiera della gastronomia locale. Ha detto Antonaros, come per esempio la Spagna fa della paella il portabandiera appunto del turismo, chi ma in Spagna non può non assaggiare la paella ovviamente, chi viene in Italia non può non assaggiare il Brodetto, che è il portabandiera del turismo della costa adriatica. Insomma un piatto veramente eccellente. Vediamo le altre località. Nuovo marciapiede protetto a San Costanzo, la sicurezza è la nostra priorità. Così ha parlato il sindaco all'apertura del cantiere sulla provinciale 17. È un intervento che costerà al Comune 170 mila euro. Si tratta di Filippo Sorcinelli, che ha evidenziato come l'opera intende migliorare soprattutto la sicurezza stradale, ovviamente permette ai pedoni di così non passare insieme al traffico motorizzato e quindi avere un certo grado di sicurezza per deambulare. E poi ancora terre roveresche, strade da Terzo Mondo purtroppo, via Gramsci-Niqua, è una via purtroppo pericolosa, degrado pericoloso, infatti Sebastianelli accusa l'ente preseduto da Paolini dalla provincia di usare due pesi e due misure. Via Gramsci-Niqua, insomma via Gramsci dove c'è proprio la provincia. E poi a Senigallia nasce l'allarme. Sul lungomare è in centro per quanto riguarda la chiusura di molti locali. Abbiamo visto come in un certo senso il turismo di Senigallia abbia evidenziato un certo ribasso rispetto agli anni scorsi. Quindi occorre rivitalizzare la situazione. Non basta quello che accade alla rotonda durante l'estate. Ci vuole qualcosa di più. E quindi occorre mettere uno stop ai locali in vendita o in affitto. Tassi, c'è solo una strada per tornare in crescita. Una crescita robusta, l'internazionalizzazione del nostro turismo. E a questo proposito dobbiamo dire che apre oggi Wazashushi al civico 14 del lungomare Alighieri. Uno spazio considerato iconico che in passato aveva ospitato il caffè sugar e il vertigo est. Quindi un punto importante di raduno per quanto riguarda il turismo di Senigallese. La pagina di Pesaro si apre con una situazione di viabilità. Ecco qua il titolo. In stand by il sottopasso tra Vismara e Torraccia. Attendiamo il sì delle ferrovie. L'assessore Belloni. Il procedimento è lo stesso di quello che è stato già sperimentato per i lavori del cavalca ferrovia. Per il cantiere del collegamento con la ciclo pedonale sono previste modifiche nella circolazione dei treni. Quindi occorre prima di iniziare questi lavori ottenere il consenso delle ferrovie. Perché ovviamente la viabilità su rotaia in questo caso non può essere fermata, non può essere nemmeno rallentata. Migliaia, migliaia in piazza per Rabacen. Ovviamente anche il Corriere Adriatico interviene sulla maggiore manifestazione che si è svolta ieri a premiare il Carnevale dei Ragazzi, il Sindaco e il Vice Sindaco. Una menzione anche per la parrocchia di San Martino. Guardate che bella foto anche il Corriere pubblica per l'affluenza di piazza del popolo a Pesaro. E sono immagini della 67esima edizione del Carnevale del Rabacen. L'Ariston lancia Pesaro 2024 che oggi incorona a Pecchio. Fino a domenica una settimana di iniziative per il terzo comune co-capitale. Sappiamo come Pesaro, capitale nazionale della cultura, abbia delegato anche gli altri comuni a concorrere alle manifestazioni di quest'anno molto importante per la promozione di tutta la provincia. Ebbene, ora tocca ad Apecchio. Apecchio che avrà anche lui la sua ribalta, le sue manifestazioni. E concludiamo con la pagina di Urbino. Dopo 30 anni di attesa, finalmente, finalmente, lo diciamo tre volte, finalmente, via ai lavori, alla guinza. Questa mattina alle 11 a Mercatello sul Metauro la consegna del cantiere. Per contratto i lavori dureranno due anni e mezzo per collegare le Marche e l'Umbria. Li seguiremo nei prossimi due anni, giorno dopo giorno. E a questo punto chiudiamo i giornali. Terminiamo qui la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento, come sempre, alle 7 di domani mattina. Grazie per l'ascolto e a risentirci.